Un gelese è stato arrestato e collocato ai domiciliari con obbligo di portare il braccialetto elettronico perché accusato di maltrattamenti in famiglia per avere tentato di incendiare l'abitazione dell'ex moglie. Il provvedimento del jeep del tribunale di Gele è arrivato dopo una serie di accertamenti da parte dei poliziotti del commissariato della città del Golfo. Una vicenda di profondo disagio sulla quale gli investigatori hanno fatto luce grazie anche all'esame delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza installati nei pressi della zona dove si è verificato il tentativo di incendio, oltre che agli accertamenti tecnici eseguiti immediatamente dopo l'accaduto.